complimenti bene due punti persi io non ho visto niente niente non l'ho vista la partita ero fuori ragazzi come vedete sono in macchina mi sono fermato tra l'altro sta anche piovendo mi sono messo in un piazzale qualche mi possono vedere tutti la cosa c'è un ristorante benissimo ragazzi ripetono ho visto che si è andato che ha il sedo e barro mi pare al secondo minuto quindi rimonta pareggiamo ragazzi ce l'abbiamo nel culo detto proprio terra terra perché la prossima crotone raga vinciamo non vinciamo pareggiamo non lo so ma dobbiamo vincere anche un pareggio non andrebbe bene se magari vincendo oggi un pareggio cartone poteva anche andarti abbastanza bene no no non va bene non va bene fa caldo prendo una boccata d'aria e comunque c'è veramente il problema forse allora non era che hai sede non era l'assenza di modo che che siete anche segnato ma il problema sono quei cazzo di giocatori lui salberto milico vissarici ripeto non ho visto la partita però in queste ore si parla di un milinkovic via al master united per 90 milioni arriverà un video a riguardo ma cazzo steppe partite me le devi decidere se vali quella cifra lì se vali quella cifra lì me le devi decidere cazzo se no vali 50 milioni vado contro un giocatore della mia squadra ci vado contro perché quella partita lì me le devi decidere se vali quella cifra lì perché un uomo non può valere 100 milioni con una squadra di merda come l'atalanta scherzo so che è forte ma fa niente non riesce a decidertele e cazzo ok ha fatto l'assist poi ripeto non ho visto la partita comunque si sono tante emozioni e barro ragazzi lo prenderei lo prenderei a lazio come terzo attaccante perché tanta roba tanta roba e adesso l'inter ha vinto ma l'udinese peggio dello scansuolo si è scansato ma voi una squadra si deve salvare ma sì quattro gol dall'inter che l'inter li ha segnati al cagliari che un'altra squadra regà no comment e li ha assegnati a all'udinese regà che non ho più parole per descrivere l'udinese vabbè comunque alla fine si salverà l'udinese però una squadra veramente schifo schifo totale forse la più schifosa di questo campionato ma basta leggere il numero delle sconfitte una di quelle che ha perso di più cioè vabbè e la roma stasera sul video non so quando lo vedrete perché lo sto registrando che sono le sei qualcosa poi lo vedete tra un po perché devo ancora arrivare a casa però raga io mi sono rotto il cazzo io mi sono rotto il cazzo manca sempre tanto così avevo pronosticato che la lazio arrivasse quinto ho fatto anche un video che se vi ricordo me lo metto in altessa nelle schede però io spero di essere smentito cazzo noi ci dobbiamo andare ci dobbiamo andare dai e lazio dai e felipe caicedone caicedo dai e caicedo così ti voglio dai e mamma mia raga sta salendo la temperatura signori io direi che sta anche smettendo di piovere sta uscendo il sole dopo il mio sfogo signori seguitemi su instagram trovate il link qui sotto e bella alla prossima ciao ragazzi